Un vero e proprio piano strategico per la rigenerazione urbana della linea costiera nel tratto compreso tra Piazza Europa e Piazza Mancini Battaglia è stato verato dalla Giunta Comunale preseduta dal Sindaco Trantino che su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica Comunitaria Parisi ha deliberato un investimento globale di 57 milioni di euro per cambiare il volto del lungomare roccioso di Catania in una visione unitaria di valorizzazione del nostro waterfront ha detto il Sindaco abbiamo seguito direttrici strategiche con un impianto coordinato che vede protagonista la bellezza del nostro lungomare dando continuità e rilanciando in un quadro di rigenerazione urbana più ampia primi interventi di riqualificazione green realizzati nell'ambito del PONMETRO 2014-2020 in alcune aree che hanno interessato Piazza Europa, Piazza Sciascia e Piazza Nettuno ma anche ricuscire la frattura urbana tra città e linea costiera la valorizzazione dei borghi marinari di Ognina e San Giovanni Licuti anche attraverso il ripristino di alcuni caratteri urbani e naturali originari spostare le funzioni di accesso veicolare alla città nord-sud-nord dell'attuale asse del viale Ruggero di Lauria, viale Artala Lagona al nuovo asse veicolare via Baraco Rotolo, viale Alcide de Gasperi già previsto dallo strumento urbanistico vigente incentivare la mobilità dolce e la fruizione per il tempo libero delle aree costiere incentivando i cittadini alla fruizione pedonale ciclabile della linea costiera e limitando l'accesso veicolare ai soli residenti e alle funzioni di servizio rafforzare il ruolo del trasporto pubblico mettendo a sistema migliorando l'accessibilità delle infrastrutture già presenti e in quelle in fase di realizzazione migliorare la qualità dell'ambiente urbano la sostenibilità e la vivibilità dei quartieri oggetto di intervento anche attraverso l'aumento delle aree verdi con la realizzazione di un parco lineare e la rigenerazione degli spazi frammentari ricuscire infine i spazi che dalla stazione ferroviaria di Ognina portano al mare e al percorso ciclabile il piano, ha spiegato poi l'assessore Parisi rappresenta un programma unico composto da quattro interventi sinergici alimentati da fonti finanziarie comunitarie e nazionali con una dotazione complessiva di 57 milioni di euro e andrà a configurare in tre anni tutta la zona del lungomare catenese